100 grammi, 200 grammi, io al centro no, non, non, non non, 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 non non に kiado non non ma è lì, vado a voluto appunto la prepotenza del semi-round la prepotenza si si aspera a me la ce me la manciare la carcetta fuori al fondo mi devo scappare così mi devo scappare così mi devo scappare così andate un buon giornale su vai 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 procurare va è un pedazio com'è arrè señor vai vai fredto vredto o sie qui sono Oh, 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 oh. Oh 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 Gli salete sotto? No, no, è in cui c'è da mano... Mi chiede a dare qui. Vieni a dare qui. No, no, no. Guarda qua. Vai! Sei! 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 Aspetta, ancora c'è l'anienza, l'anienza, l'anienza.